Sono molto felice di essere qui, amo l'opera e per questo sono molto curiosa di partecipare questa serata. È un problema anche di povertà, di paese che si impoverisce alla velocità della luce. Noi dobbiamo sapere che dobbiamo giocare contemporaneamente la parte della crescita, dell'innovazione, delle cose nuove e dall'altra parte il grande disagio sociale che c'è. Manifestanti ucraini che non condividono la scelta dell'opera e del compositore, cosa si può dire? Non si deve fare confusione tra la presentazione di un'opera importante della storia della musica e la situazione politica russa. Stasera francamente non ho la testa alle polemiche stasera. Sgarbi a parte. Neanche sgarbi. Io non lo conosco, ripeto. Vi invito a chiacchierare forse quando ci conosceremo meglio.